Come al perdono, quindi riabbracciamo anche delle manifestazioni civiste che fanno da cornice sportiva al perdono, quindi il Giro del Valdanno, la 44esma edizione, il piccolo giro. Il Giro del Valdanno è una manifestazione sportiva civistica molto importante, di carattere nazionale e internazionale. Quest'anno finalmente potrà rivedere l'arrivo in piazza, in piazza Ficino, e l'anno scorso non è stato possibile a causa delle restrizioni legate alla pandemia. Quindi come amministrazione siamo molto contenti di poter riabbracciare queste manifestazioni sportive che fanno da cornice in contorno agli eventi del pubblico.